un telefono sennò qui oh Caterina Cattella Luca qua quando noi vieni in Australia arrivi e ci fai se pesa YouTube mette yes, scopa e ritroffa facciamo 100 zone bella roba non la facciamo anche vedere che gli canoce vogliamo fare canoce che è questa sera andiamo su sette a coppia oh Zorro, lui placetta e cocchetti chi non lo sa vede un coppia internet e i canoce la ciuccione del Zorro sono i primitivi che acquisto in modo che salvatore sono via e ci mette pure a Maria che cos'è poi è seguito ahahahahah Grazie.